Ciao, sono Luigi di Clarintuxuntux per sempre. Scusate l'assenza del mio canale, ma oggi finalmente ritorno con un video, anche se breve, per presentarvi un po' una novità. Ebbene sì, sono passato a Weyland e al Wind Manager Hyperland. A molti di voi potrà sembrare strano, ma non avevo mai provato Weyland. Sicuramente voi lo avrete fatto, specialmente se siete utenti di desktop environment blasonati come Gnome o KDE Plasma. Ma per quanto mi riguarda l'ho completamente ignorato fino adesso e continuo ad ignorarne i dettagli tecnici. Sì, ovviamente so qualcosina, so che è semplicemente un protocollo e che è nato con lo scopo di essere moderno. Comunque, essendo io un utente di Wind of Manager e nello specifico di BSPWM, ho avuto qualche tentanamento a passare a Weyland. La cosa che mi ha spronato a provare Weyland sono gli effetti grafici di Hyperland. Diciamolo, sono accattivanti, è un bel Wind of Manager ed è per questo che ho provato Weyland. E allora, cominciamo un po' con la presentazione del desktop environment che mi sono creato. Come detto, si tratta di Weyland e del Wind of Manager Hyperland. Per il resto, come vedete, ho una barra in alto. Si tratta di Weybar, configurata con un modulo per visualizzare i 10 workspace, i 10 spazi di lavoro. Con un modulo per pulse audio, sì, utilizzo ancora pulse audio. Un modulo per vedere l'interfaccia di rete e la connessione. Un modulo per la RAM. Un modulo per la CPU, la temperatura, la batteria. Poi abbiamo anche un'area di, come si chiama, di tray. E poi l'orario e la data, con un calendario che si visualizza andando col mouse sulla data. Bene, allora, intanto vi faccio vedere i 10 workspace. La camera mi seguirà su ogni workspace. Questo è il primo, semplicemente ho un terminale aperto, lo utilizzo semplicemente per fare dei lavori da terminale. Sul secondo workspace abbiamo un web browser, questo è Tor, nello specifico. Nel terzo workspace abbiamo un file manager da terminale, questo è il Ranger. Ho ovviamente anche un terminale, un file manager visuale, di solito utilizzo Tuner, eccolo qua. Poi ho la mia collezione musicale, quello che vedete sono tre finestre di N, M, C, P, P, P. O, credo di aver sbagliato il nome, che è abbastanza complicato. Poi magari ve lo farò vedere anche in azione. Nel quinto workspace abbiamo Newsbot, dove vedo tutte le notizie che vengono dalle mie sottoscrizioni RSS. Poi ancora abbiamo un cliente email, questo è Neomat. E poi ci sono dei workspace vuoti. Bene, allora come layout ce ne sono diversi. C'è il dwindle, penso che si chiami. Inizialmente ho utilizzato quello, che è quello di default. Mi è sembrato anche interessante, è simile al layout di BSPWM, cioè a spirale praticamente. Però non mi è piaciuto il fatto che quella spirale segue il mouse, il puntatore del mouse. In realtà io voglio che l'ultima finestra aperta sia sempre più grande, come in questo caso. Apro un'altra finestra ed è la più grande. Quindi la finestra che si apre e che ha il focus è quella più grande. Normalmente l'ultima finestra aperta è quella su cui lavori. Quindi quale layout ho scelto? Ho scelto il master. E come vedete abbiamo una finestra master e poi tre finestre più piccole a destra. La camera che mi segue su ogni workspace invece è una finestra float. E infatti la posso trascinare. Comunque per trascinare una qualunque finestra basta premere una compressione di tassi e poi diventa float. anche lei ripremio quella combinazione di tassi e mi ritorna Tiled, perché stiamo parlando di un Tiling Window Manager. Chiudo le finestre con un'altra combinazione di tasti. Le solite cose insomma. Per il full screen ho un'altra combinazione di tasti. Vedete che la finestra adesso è full screen. La cosa interessante secondo me sono tutti gli script che ho fatto tramite Bmenu. Su Xorg abbiamo Dmenu, ci sarebbe anche qua su Wayland, ma si viene visualizzato nel centro a metà dello schermo. Siccome sicuramente ci sarà una patch per Dmenu, ma ho scelto Bmenu. Bmenu si visualizza tranquillamente là sopra ed è esattamente, funziona esattamente come Dmenu. Non è che ci siano grandi differenze. Allora, cosa ho fatto tramite Dmenu? Intanto posso aprire la mia collezione musicale direttamente da qua. Io adesso aprirò semplicemente la prima traccia che è Copy Left, quindi non ho paura che il video mi venga poi bannato. E poi parte la collezione musicale gestita tramite MPD, il Daemon MPD. Il che significa che senza andare sulla collezione musicale posso manovrarla, posso andare sulla prossima traccia. Ad esempio, ecco qua che ho fatto. Poi vi dicevo che volevo fare vedere il desktop con NMCPP o come cavolo si chiama. Eccolo qua, lo vedete in azione. Quindi da qua posso effettivamente visualizzare tutta la collezione musicale. Ma tramite Dmenu ovviamente il tutto funziona perfettamente. E Dmenu ce l'ho, Bmenu scusate, ce l'ho ovviamente accessibile su qualsiasi desktop, su qualsiasi spazio di lavoro. Ecco che qua sono sul primo spazio di lavoro, premo quella combinazione di tasti e posso accedere alla mia collezione musicale. Sempre tramite Bmenu, se voglio fare un semplice calcolo matematico, non so, scriviamo 20 per 35 più 3, più 4. Ed ecco il risultato 704. Ovviamente ho una calcolatrice, un'applicazione calcolatrice, ma è molto più comodo fare tutto dal menu qua senza occupare spazio a schermo, no? Cos'altro? Per fare gli screenshot, premo semplicemente Print e da Bmenu posso scegliere di effettuare uno screenshot a full screen a una porzione, ad esempio facciamo così. Ed ecco che ha scattato uno screenshot. Possiamo andarlo a vedere. Per farvelo vedere vi mostro direttamente un'altra cosa che ho creato tramite Bmenu, ossia un piccolo file manager. Eccolo qua, vedete documenti, immagini, quindi vi vado su immagini ed ecco questo dovrebbe essere lo screenshot appena effettuato. Infatti eccolo qua. Quindi vi ho fatto vedere il file manager, vi ho fatto vedere come accedere alla collezione musicale, poi per cercare, per la ricerca di file, posso intanto scegliere il nome del file, cioè effettuare una ricerca tramite il nome del file. Ad esempio scrivo bash.rc e lui mi troverà ovviamente diversi file che si chiamano bash.rc. Eccoli qua. E se poi ne seleziono uno, ad esempio questo, me lo apre per farmelo editare. Ok. Ma posso anche cercare qualcosa all'interno, nel contenuto di un file. Ad esempio non so, ricerco la parola corona. Adesso sicuramente ci vorrà un po', anche perché sto registrando il desktop. Ma vediamo. La ricerca comunque la effettua con ripgrep. Aspettiamo ancora un po'. Beh, ripgrep, ok, ce l'ha fatta. Quindi su tutti questi file c'è la parola corona. Ad esempio andiamo qua, se clicco me lo apre. Adesso non so dove sia la parola corona. Eccola qua. Diverse volte è contenuta la parola corona. Ok, abbiamo anche la possibilità, sempre tramite Bmenu, di effettuare delle semplici traduzioni. Ad esempio dall'italiano all'inglese. Scrivo cane. E come vedete mi risponde dog. Esatto. Ok. Ok, poi posso vedere, posso visualizzare i video di YouTube direttamente da Bmenu. E lo faccio con una pressione di tasti che in momento non ricordo. Ah, ecco già. Ok. Come vedete ci sono dei canali YouTube che ho preimpostato. Altrimenti cerchiamo video. E ad esempio cerco la parola Linux. Ecco, mi ritrovo a diversi video. Sul Linux, ad esempio Arch Linux install in due minuti. Lo apro. Ci metterà un po' ma a breve parte. Ci metto un po' perché lo scarica in realtà tramite Tor. Va bene, ecco qua il video. Ok, spero che il tutto vi sia piaciuto. Vi faccio vedere un po' le animazioni. Le animazioni quando apri, quando chiudi. Le animazioni quando passi da un desktop all'altro. Ecco qua. Facciamo un po' di effetti, effetti grafici. Tanto per Spostiamo questa qua. Vedete com'è facile spostare una finestra da un lato all'altro. Molto facile. Ok, anche per ingrandire, per allargare le finestre basta trascinarle col mouse e il gioco è fatto. Va bene, spero di fare a breve un video su come configurarlo. Non so quando. Per ora ha problemi di tempo. Molto lavoro, diciamo. E spero di mettere tutte le mie configurazioni su GitHub in modo tale che chi è interessato se la possa copiare. Attualmente trovate su GitHub le mie vecchie configurazioni. Se utilizzate BSP, WM vanno benissimo. Se utilizzate tutte le utility che utilizzo io va benissimo. Ma ancora su Hyperland non ho niente, assolutamente niente. Tra l'altro sono un po' confusionario, quindi devo mettere un po' ordine a questi .files. Ma spero di riuscirci a breve. Va bene, spero che il video vi sia piaciuto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao da Clarintux. Ciao da